Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi chiamo l'Andy Vildo e benvenuti in questo video Oggi siamo con Lime Lenny, che è nuova Buongiorno Ciao Buongiorno E oggi li facciamo vincere la sua prima Bad Wars Lasciamo canale in descrizione e essenzialmente basta, ci vediamo in partita, ciao ragazzi E siamo in partita, c'è un certo Matti Slayer là, ma non ci interessa Basta, lo stai cercando di rubare Devo rubare, ma comunque, ok Allora Abbiamo i blocchi, ci contiamo, parto dai diamanti qua Parto dai diamanti rossi e li uccido prima che sia troppo tardi Vai Perché in pratica funziona così Ok, se non già connessi in parte In pratica Pico Ciao signore Aspetta che gli rompo i letti rossi, subito Vai, vai, aspetta, adesso arrivo in più, tranquillità Non mi ha notato, è stupido Ehi, what happened? È ritardato, gli ho rotto il letto Cioè lui era qua che spaccava il blocco No, io l'ho ucciso No, Fifi, a uno A uno di vita non sono riuscito a ucciderlo perché tutti lo proteggono Vai Lemmy, vai Lemmy C'è uno brutto che mi segue Menaglie, menaglie, menaglie L'ho ucciso, grande Lemmy Un è caduto, l'ho ucciso E manca una Eccolo, eccolo qui Fai me negli elemi Vabbè, l'ho ucciso il compagno Comunque sei fortissima No, oddio Ok Allora Bisogna connettersi ai verdi adesso Ho fatto uno stack di lana giusto per Allora, la prossima tappa è Lime Ora meniamo i Lime Meniamo i parinti di Lemony Posso chiamarti Lemony? Lemony, no E mi è venuto in mente tra Lime e lei Lemony Lemony Sono un Lemur Sono una sceglia Speriamo Porco Giuda Sono diventato cieco No, ti muovi adesso, ti muovi adesso Ti muovi adesso Ucciso Letto lotto Zoom Non vale Tutte le serie che gioco con i miei amici Ho ucciso un altro Oh, rimangono solo i gialli E' da tanto che dovevo mani Sperti, mamma mia Mancano i gialli E adesso andiamo a prendere i gialli Vinciamo la partita Io voglio rompere il letto Voglio rompere il letto Allora ti farò rompere il letto Gialli Sì Vuoi essere io la vincisi Oh, li ho uccisi Veloce, veloce, veloce Annole io C'hai letto, ho quasi scoperto Quasi Oh, uccisi uno, uccisi due Ok, mi facevo i... Lei mi dove sei? Arrivi io, mi sono partita il colpio È veloce perché non riesco a ucciderli tutto questo tempo Arrivi io Ok, non posso tipo 6 kill Stanno tirando la sua polvere Non è liberato Arrivo, arrivo, arrivo Donny, resistia Oh mia Ma li sta distruggendo Ok, anch'io Ma non posso fare 8 kill di tina Cioè, sono proprio scassi Arrivo, arrivo Vai lei mi rompilo Vai lei mi rompilo Uccide, uccide, uccide Vai uccidili Distruggili Vai 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 levi Sì, ce l'abbiamo fatta Finalmente È un canto importante Wow, mi farai... Oh, che bello Oh mamma mia Non ti ho mai visto Thank you Matti Slayer Chi? Degli un bacino a Matti Slayer Chi è Matti Slayer? È lui Quello che è stato con lui in partita Quello che ti molestava fin dall'inizio Thank you Yeah Bene Quindi, abbiamo vinto Siamo riusciti a far vincere una partita a Lemmy E niente Se il video vi è piaciuto Vi chiedo Di iscrivervi al canale di Lemmy Fa robe molto interessanti Non è vero Di iscrivervi al mio Giusto perché ve lo chiedo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi